Pronto, sono dei palco da riporto, parlo col comandante Sono il comandante Schettino, comandante Schettino? Sì, ascolti il Schettino Sì, sotto lo brua della nave, sì, c'è una piccadina Sì, riva percorre in centro e in vento, sì, e mi dice quante persone Sì, sotto lo brua della nave, sì, c'è una piccadina Sì, riva percorre in centro e in vento, sì, e mi dice quante persone Guardate, in questo momento, è la nave È inedale, ho capito? È inedale È inedale È inedale È inedale È inedale È inedale Stai di a bordo, ora Mi chiamo Bacchiamo, comandante Schettino 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 Quattiamo, comandante, guardia Quattiamo, comandante, guardia Voi avevate 4.000 persone a bordo, più di 4.000 e siete riusciti a salvare quasi tutti Si dice che il comandante sia l'ultimo a lasciare la nave, com'è andata, comandante? Siamo stati l'ultimo ad abbandonare la nave Siamo stati l'ultimo a lasciare la nave